L'anima di grafite non conosce soste, esitazioni. Nel suo stesso procedere in avanti ci chiama la possibilità del ritorno. Nel suo segno oscuro riposa la dolcezza del bianco e Angelina torna a sorridere tenendo per mano un bambino abbagliato dal sole. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Al prossimo episodio Al prossimo episodio Al prossimo episodio Al prossimo episodio